Molto veloce, molto veloce. Quindi, come è stato per te diventare parte della grande Star Wars Galaxia? È un sogno, è come il mio piccolo figlio vivendo i sogni. È come essere a Disneyland, lavorare a Disneyland e pagare a essere a Disneyland. È stato un sogno che è vero. Perché credo che la gente sia piaciuto l'Acolyte? Qual è diverso? Molto cose. Abbiamo una nuova linea. Abbiamo 100 anni prima di The Phantom Menace. E anche questo è un misterio di murder. Abbiamo anche la choreografia di fight, i settori di pratica. Abbiamo una bellissima cinematografia con bellissimi luoghi. Credo che si chiede per una grande amalgamazione di elementi, che credo che la gente abbia piaciuto. Finalmente, puoi mi raccontare il tuo primo giorno sul set? Cosa era il sentimento? Io continuo portando a Disneyland. «Disneyland, posso ottenere i libri?» Perché è quello che sembrava. E' solo questi settori pratici. E' stato potuto andare a spiegare, esplorare, riempire e riempire. E' tutto ciò che aveva per me. E' stato bellissimo. E' stato una reale ode alla trilogia originali Star Wars. Cosa è che la gente abbia piaciuto molto Star Wars? E' stato portato a noi insieme. 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 E' stato portato a noi in un'altra galaxia. Far, far away. Grazie mille. Grazie mille.